Ciao a tutti ragazzi, in questo video come volete vedere parliamo del mio sistema di cucina che utilizzo per cucinare quando faccio trekking. Visto che ve l'ho chiesto su Instagram se vi poteva interessare il video e mi avete detto praticamente tutti gli sì, beh oggi ne parliamo, vediamo un attimo da cosa è iniziato, qualche consiglio, cosa utilizzo adesso e iniziamo col video. Inizio però raccontandovi un po' il sistema cucina che ho utilizzato. Allora io ho provato a cucinare un po' col fuoco vivo, quindi facendo magari il mio mucchietto di sassi e cucinandoci dentro. Ho provato a utilizzare della roba cinese dove andare a inserire dentro una cartuccia in gas liquefatto da far bruciare, ma praticamente stavo quasi per bruciarmi io, per bruciare tutto, quindi l'ho buttata via al primo utilizzo, era proprio una cinesata. Dopodiché sono arrivato a questo sistema. All'inizio non utilizzavo questo tipo di fornello, che lo mettiamo un attimo da parte. Utilizzavo questo sistema. Queste cose qua, questo soprattutto, il fornello e la bombola, sono di Camping Arts, lì si trova alla Decathlon. Se non ricordo male il fornello costa sui 15 euro, mentre la bombola dipende dalla dimensione, perché ci sono sia piccole così che costano sui 3 euro, e poi ci sono quelle più grosse, per intenderci tipo quest'altra, che purtroppo non ce l'ho a casa, perché le ho finite, da 500 grammi che ne costano più o meno sui 5-6 euro. Allora, con questo sistema l'ho utilizzato davvero tanti tanti anni, ci ho fatto anche tante alte vie, mi ci sono comunque trovato bene. E' abbastanza lento nel cucinare le cose. Nel senso, se noi abbiamo una cartuccia anche nuova e mettiamo sull'acqua, i suoi 4-5 minuti per farla bollire, lì ci vuole tutti. Per quanto riguarda l'attaccatura, quindi come si attaccano questi due sistemi, come si attacca il fornello con la bombola, è tipo da campeggio, perché poi vediamo che quelle da trekking sono fatte in altro modo. E' molto semplice, davvero basta spingere e girarlo un pochino, si aggancia. Non abbiamo apertura a piezza elettrica, quindi dovremo andare sempre con il nostro accendino, e da quest'altra parte abbiamo la valvola per poter andare a aprire e regolare il gas senza tanti problemi. Non mi sono trovato tanto bene per quanto riguarda la piedinatura sopra, perché se noi andiamo a metterci sopra la nostra pentola, la piedinatura è un pochino piccolina e si rischia che la pentola possa cadere, in alcuni casi mi è capitato. In questo caso l'altezza è abbastanza anche ridotta rispetto al tavolo, se andiamo a prendere le bombole più grosse l'altezza sarà superiore. C'è un po' da fare attenzione, poi dipende naturalmente anche dalla grandezza della vostra pentola. E beh comunque sono sempre stati affidabili, non mi hanno mai dato problemi, soffrono tanto il vento, perché essendo così aperto quando c'è vento praticamente la fiamma quasi si spegne. Però vabbè, come primo utilizzo, se cercate qualcosa di molto economico, secondo me questo può essere un'ottima soluzione. Successivamente sono passato a quest'altro tipo di fornello. Questo fornello, sempre di Decathlon, è fatto in modo diverso. Ha innanzitutto l'aggancio non più da campeggio, ma da trekking. Quindi come funziona? In questo caso si avvita e si svita, proprio semplicemente così. Io in questo caso l'ho svitato. È un modo diverso, anche lui è abbastanza sicuro. Importante se utilizzate queste bombole, quando fate questa operazione deve essere verticale. Se lo fate obliquo a testa in giù vi uscirà abbastanza gas, sarà abbastanza difficile. Questo fornello mi ha abbastanza svoltato le cose. È un fornello che costa 35 euro da Decathlon, il fornello. È sempre sui 6-7 euro la bombola, quella grossa, da 500. Però, cavolo, questo cuoce l'acqua in pochissimo tempo. Cioè, questo qua in un minuto, esagero, un minuto e mezzo, l'acqua bolle. Ha l'abcensione piezo elettrica. Adesso magari ve lo accendo un attimo. Cioè, non so se si vede dal video, ma praticamente sembra quasi un jet. I jet dell'aeronautica, più o meno siamo lì, ecco. Davvero, al massimo questo bolle l'acqua in un minuto. È una cosa fenomenale. E parliamo di un fornelletto che costa 35 euro. Ha sempre il suo difetto che soffre anche lui abbastanza il vento. Però mi ci sono trovato decisamente meglio. La pentola sopra ha lo stesso identico problema, nel senso, balla. Probabilmente bisognerà utilizzare un fornello diverso o una pentola diversa per non farla ballare. E bisogna farci abbastanza attenzione. Però, se state cercando qualcosa di più professionale, che pesi meno, soprattutto perché la differenza di peso è abbastanza notevole del singolo fornello, io questo ve lo consiglio. Cioè, con 35 euro di portacasa è una cosa che è fenomenale, davvero. Da questo punto di vista, Decathlon ha tirato fuori un prodotto spettacolo. Però, adesso che abbiamo parlato del fornello, parliamo un attimo anche del pentolame. Questo qua, il mio pentolame, che utilizzo da 6-7 anni. Praticamente ho avuto soltanto lui. E dalla strategia mi suggeriscono che ora li cambiare. In effetti hanno anche abbastanza ragione, perché dopo un po' naturalmente si è rovinato. Allora, è fatto praticamente in alluminio e basta. Cioè, proprio questo è alluminio grezzo e ciocotto di tutto e di più. È della tatonca, ne esistono tre versioni da un litro, un litro e mezzo, due litri. Io ho preso la versione da un litro e mezzo, perché anche farci la pasta, un risotto per due, mi ci sono trovato bene la soluzione migliore. Magari per una persona va meglio il litro, se siete più di due, andrei sui due litri. E la cosa bella è che noi, utilizzando questo piccolo aggeggino, che va a incastrarsi qua dietro, abbiamo anche un piccolo pentolino. Cioè, quindi a me è capitato molte volte magari qua di cucinare la pasta, del riso, e poi magari qua dentro di andare a cucinarci della salsiccia, un hamburger, qualcosa, senza tanti problemi. Il problema è che non è antiaderente. Questo forse è uno dei più grossi problemi di questo tipo di pentolame. Infatti ogni volta devo metterci un filo d'olio per non farlo attaccare. E nonostante ciò, ogni tanto ho pure bruciato la roba. Quindi sì, buono. Costa anche veramente poco. Se ricordo male, si aggira sui 20-25 euro. E per iniziare, secondo me, va più che bene. Io veramente ci ho cotto di tutto e di più. Cioè, sono anni che ci mangio con questa roba qua. E sì, dovrò cambiarla, perché comunque dopo un po'... Cioè, anche il fondo, soprattutto, adesso non è più regolare, inizia ad essere ondulato di tutti e due. Però per iniziare, io questo ve lo consiglio tantissimo. Soprattutto se magari non dovete fare piatti particolarmente difficili. Cioè, qua l'acqua, come dicevo, con questo pentolino, in quanto? Cinque minuti, sei minuti cucinate quello che dovete mangiare, soprattutto pasti caldi. Quindi queste cose ve le consiglio praticamente tutte. Altro pro è che questo qua è graduato dentro. È segnato un mezzo litro, un litro, un litro e mezzo. E quindi possiamo regolarci noi. E poi ha anche il manico per poterlo tirar su. È molto interessante, perché quando io vado ad appoggiarlo sopra e sotto magari ho il fuoco, riesco benissimo a sollevarlo senza bruciarmi. Questo resta incastrato quasi sopra, come potete vedere. E riesco a tirarlo fuori senza bruciarmi le mani. Infine, per quanto riguarda i miei accessori, diciamo, col quale mangio, ho questo multi-tool, questo ho comprato su Amazon, anche questo ha forse 15-20 euro. Si separa, quindi posso utilizzare forchetta e cucchiaio, barra forchetto e coltello, nello stesso momento. L'unico problema di questo è che in teoria era dato come acciaio inossidabile. In pratica, nel corso del tempo, si è ossidato. Non lo so se sia un difetto del mio, perché vedo altri youtuber che lo utilizzano da tanti anni e non hanno questo problema, cioè non è ossidato. Probabilmente è il mio che ha qualche difetto, l'ho trattato male. Dovrò cambiarlo, naturalmente, perché adesso che si è completamente ossidato e arrugginito, è da cambiare. Però per i 15-20 euro al quale viene venduto è un ottimo acquisto, perché possiamo praticamente utilizzarlo sempre, possiamo mangiarci qualsiasi cosa. Pesa un pochino, perché naturalmente i materiali sono un po' quello che sono, perché non è professionale. Però anche qua, per iniziare, secondo me, va più che bene. Detto ciò, ragazzi, io spero di avervi dato qualche consiglio se state cercando un piccolo kit con il quale iniziare a cucinare in ambiente outdoor, se siete alle prime armi. Esistono sicuramente dei sistemi decisamente migliori per cucinare, aziende molto più blasonate, che fanno roba anche molto più costosa. Però, come dicevo, questo è un video per i principianti, per chi si sta avvicinando, per chi non vuole spendere tanto, ma comunque ha bisogno magari di determinate prestazioni. Detto ciò, io vi ringrazio per aver guardato anche questo video, e nella speranza sia stato esauriente ed esotivo. Vi saluto e ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!